Sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani batte tutti sul tempo e lancia la sua candidatura come governatore della Regione Abruzzo per le elezioni del 2019. Da dove nasce l'idea e qual è il progetto? In verità l'idea c'è sempre stata, l'ho annunciato addirittura nella mia campagna elettorale, ho detto che io avrei fatto il sindaco fino al 2021. Solo una cosa potrebbe farmi pensare a una dimissione anticipata è quella di potermi candidare come governatore della Regione Abruzzo. L'ho annunciato perché ho una visione di questa Regione, sono convinto di poter mettere in campo tanta qualità per svoltare una volta per tutte perché vediamo una Regione che, ahimese, è ben amministrata però avrebbe bisogno di quel pizzico in più per lanciarsi come altre Regioni italiane sono riuscite a fare. Io pongo la mia candidatura con tranquillità sapendo che non ho nulla da perdere, aprendo a un centro fatto di moderati, di persone che non vogliono più essere identificate con una semplice sigla di partito ma vogliono fare per il bene della Regione.